Cos'è il 5G? Il 5G è la quinta generazione dei sistemi di telefonia radiomobile e cellulari. Rispetto al 4G, che è la tecnologia che abbiamo il giorno d'oggi nei nostri smartphone, il 5G introduce una serie di migliorie, specialmente dal punto di vista della velocità di trasmissione dell'informazione, che tocca in 5G 100 gigabit al secondo, quindi 100 volte superiore rispetto a quella garantita da tecnologia 4G. Per dare un'idea, per scaricare un film di un paio d'ora in alta definizione, con tecnologia 3G occorreva più o meno una giornata, con la tecnologia 4G corrente occorrono una decina di minuti, il 5G consente di scaricare lo stesso film in solo pochi secondi. Questo consente la fruizione e la distribuzione di contenuti multimediali di altissima qualità, utenti in mobilità, abilitando anche tutta una serie di applicazioni legate ad esempio al mondo della realtà virtuale, realtà aumentata. Il 5G in realtà non è solo velocità di trasmissione, altre caratteristiche distintive della tecnologia includono l'affidabilità delle comunicazioni e il tempo di risposta della rete, che è molto basso, passando dai 50 millisecondi del 4G al singolo millisecondo del 5G. Anche qui per fare un esempio, se si volesse inviare un comando di frenata a un veicolo che viaggia a 100 km orari, con tecnologia 4G il comando arriverebbe al veicolo quando questo ha già percorso un metro e mezzo più o meno. In 5G lo stesso comando arriverebbe al veicolo quando questo ha percorso solo pochi centimetri. Questa caratteristica fondamentale per tutte quelle applicazioni che richiedono nativamente affidabilità e bassa latenza. In primis tutte le applicazioni che riguardano il controllo di veicoli a guida autonoma o guida assistita e poi tutte quelle applicazioni di controllo e monitoraggio industriale, come la robotica collaborativa e applicazioni di telecontrollo di flotte di droni terrestri o aerei. Il 5G inoltre consente o consentirà di fornire connettività a un numero elevatissimo di dispositivi. Si parla di un target di un milione di dispositivi per chilometro quadrato. Ciò rende di fatto il 5G è tecnologia abilitante per realizzare la visione dell'internet degli oggetti, quindi quella visione secondo cui oggetti di uso comune avranno o hanno una presenza su internet e quindi potranno essere raggiunti tramite l'internet. Con ricaduti importanti in diversi ambiti, tra cui quello delle cosiddette smart cities, città intelligenti, in cui sensori distribuiti nell'ambiente urbano ci aiuteranno interconnessi con 5G a tenere le nostre città più pulite, più sicure, fornendo servizi alla cittadinanza. Ma come fa il 5G a realizzare tutte queste migliorie? Nessuna magia, solo un mix di tecnologie e architetture avanzate. Per citarne alcune, il 5G sfrutterà bandi in frequenza per la trasmissione diverse rispetto a quelle delle tecnologie precedenti, tra cui le cosiddette onde millimetriche, che consentono di realizzare dei tubi per la trasmissione di informazione a elevatissima capacità. I dispositivi 5G, sia lato utente che lato rete, saranno dotati di antenne tendenzialmente multiple, consentendo quindi un'efficienza maggiore nella trasmissione dell'informazione, e lato rete, il 5G, userà in maniera diffusa il paradigma delle cosiddette software defined networks, che consentono di controllare tramite software in maniera quindi molto flessibile tutte le funzionalità della rete. In conclusione, quindi, la tecnologia 5G non ha come obiettivo solo quello di migliorare i servizi già offerti dalla tecnologia 4G, quindi traffico vocale, traffico dati, traffico video e messaggistica, e paradossalmente quindi il 5G non è solo uno standard di telefonia radio mobile, ma in realtà è una tecnologia che abilita anche servizi totalmente nuovi, con opportunità diciamo così mai viste, sia per gli utenti finali che possono fruire di questi servizi, che anche per la creazione di nuovi business in diversi ambiti applicativi molto eterogenei tra di loro.